Il pubblico ministero Maria Midia ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti e 23 gli imputati nel processo per i mutui fantasma al comune di Brolo. Questa mattina, di fronte al GUP del Tribunale di Patti e Eugenia Licuo, si è svolta la prosecuzione dell'udienza preliminare aperta lo scorso 5 maggio. Rigettate le richieste di ammissione al rito alternativo presentate da alcuni dei difensori. A fare richiesta di abbreviato condizionato era stato l'avvocato Carmelo Chiuto per l'ex sindaco di Brolo Salvo Messina, Parenza Rifici, Elena Rosa Salovercio e Giussi Di Leo. Il legale aveva proposto l'escursione di 25 testimoni, tra cui il collaboratore di giustizia Santolenzo e Giovannino Ridolfo, dipendente del comune di Ficarra. Accettata la richiesta di abbreviato semplice dopo il rigetto del condizionato per l'ex economa comunale Francesca Mondello, la cui posizione è stata dunque stralciata e rinviata al 19 luglio. Respinte quindi la richiesta di patteggiamento avanzata da Santa Caranna, vista anche l'opposizione del PM in quanto necessaria, in virtù della nuova legge, la restituzione delle somme e l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal legale Mimmo Magistro alla precedente udienza. Dopo il pubblico ministero hanno parlato i difensori delle parti civili e quindi la difesa del ragioniere Carmelo Arasi e della figlia Rossella, che hanno chiesto il non luogo a procedere. Esclusi infine dai capi di imputazione, in virtù della nuova normativa, solo alcune ipotesi di reati finanziari sotto soglia di 130.000 euro. L'udienza è stata rinviata al prossimo 5 luglio per dare la parola ai legali delle altre difese, quindi il 19 luglio si conoscerà la decisione del GUP.